altra vittoria per l'inter di atilio sorbi ruba palla regina baresi vede tarenzi in mezzo non può sbagliare e non lo fa stefania tarenzi quinto gol in campionato per tarenzi grandi meriti al capitano dell'inter che nel secondo tempo raddoppia sfruttando un rimpallo se ne va marinelli mette il mirino sul secondo palo destro perfetto di gloria marinelli dopo il flipper tra cinotti e prugna marinelli che poi sigla anche la sua doppietta con questa magia il pallonetto che scavalca a baldi vale il sesto gol in campionato per lei 3 a 0 per l'inter